Benvenuti in questa penultima puntata di Cosmic Prison per questa settimana Oggi andiamo ancora avanti con i miglioramenti sia per quanto riguarda il mio piccone sia per i livelli Infatti c'è una piccola sorpresa visto che qualcuno non se l'aspettava ma sto andando avanti anche con i livelli E a parte questo sistemiamo anche finalmente spade piccone perché devo potenziare il piccone a livello 25 Portare la spada a un buon livello e mi sto preparando anche per gli enchant che andiamo a fare su quest'ultimo ovvero sulla spada Ci sono un po' di cosette interessanti ma dovremmo un attimo aspettare per poterle fare perché prima bisogna completare il piccone Quindi io vi invito a lasciare un bel like mi raccomando ragazzi siccome di raggiungere 700 like per questa nuovissima puntata di Cosmic Prison E goderemo la puntata di oggi e non vi dimenticate che domani uscirà l'ultima puntata di questa settimana Di questa terza settimana di fila di Cosmic Prison e vi ringrazio ancora per il caloroso affetto per questa serie Sono qui all'ingresso della mia cella per iniziare ufficialmente quest'altra puntata ragazzi Oggi è lunedì e come potete notare ho un po' di rimanenti delle cose che mi avete regalato ieri nella live Voglio ringraziare tantissimo perché abbiamo raggiunto altro record del canale infatti abbiamo avuto più di 690 persone online collegate nello stesso momento Quindi grazie mille davvero tantissimo e nel frattempo ho un po' di cosette che mi avete regalato anche voi Ho infatti o Kuno che mi servirebbe per la spada quindi non è male Abbiamo un Nijicorector 2 che invece serve per il piccone quindi buono anche quello Mi avete regalato anche D-Diam Generator quindi vorrei utilizzare questi ultimi in questa maniera Solo che prima devo vedere effettivamente dove li devo piazzare Mi sa che li devo mettere qua giustamente Quindi iniziamo a piazzare questi portiamo questo a livello 7 perfetto E il resto lo mettiamo da parte tranquillamente qui Direi inoltre di indossare la nostra nuova armatura finalmente Questa è l'armatura Vulcan fighissima molto buona molto potente In realtà è uguale al precedente soltanto che in diamante E abbiamo ufficialmente tutto completo Qua vedete abbiamo pure la nostra spada con Lighting 1, Electrocussion 2, Blaze 1, Famine 1, Famine 2 e Flying 1 Quindi tanta roba anche per questo E abbiamo il nostro super piccone ufficialmente bellissimo e fantastico Mi avete regalato Magnetism 2 che potremo mettere sopra il nostro piccone Oppure Energy Collector 2 Quindi devo anche decidere cosa mettere dopo Anche se dovrei comunque portare efficienza a un buon livello Quindi direi che per oggi sarebbe opportuno andare a minare tutti questi diamanti Perché ufficialmente possiamo minare tranquillamente questi diamanti senza problemi Però prima magari apriamo anche questa Simple Che mi darà ovviamente dei soldi normali Perfetto Quindi rompiamo tutta questa cosa ragazzi Per fare sempre più soldi Ed è anche più veloce adesso abbiamo il piccone di diamante in Zenith Altra notizia molto importante Ovviamente ufficialmente siamo in C-Top Abbiamo superato il Dirty Dance E siamo ufficialmente noni in classifica Per arrivare a ottavi abbiamo bisogno ancora di un batto di robe Ma pian piano ce la faremo E vorremmo raggiungere effettivamente un buon traguardo Anche perché la nostra gilda alleata e l'aurora sono sesti Quindi in realtà se riusciamo ad arrivare ai settimi Dovremmo fare tutto tranquillamente senza problemi Quindi ci siamo soltanto altri 30 milioni Che dovremmo fare tra ovviamente nuove cose Miglioramenti delle nostre celle e cose del genere Quindi pian piano ci arriveremo Come vi mostravo anche in live abbiamo preso tipo in realtà per pochi minuti Anche l'outpost Che è questa cosa nuova migliorata Che dà un sacco di vantaggi a chiunque lo ha Infatti ha tipo un botto di energia in più Orsel Generatori migliorati Questa infatti quella training è la migliore secondo me Per chi sta molto dentro delle celle Perché dà un botto di miglioramento per i generatori Poi abbiamo la hero che invece è molto utile per chi va in giro Perché dà un sacco di esperienza tra i meteoriti e le meteore E comunque potete vedere tipo la gente cerca molto spesso di recuperarla Perché giustamente è una delle quelle più utili E poi ci sarà questa qua con la cosmonauta Che ormai è dell'elf da un bel po' di tempo Tipo da quando è uscito ovviamente erano fatte a my guys Poi gli elf giustamente Ed ha tipo un botto di energia in più La roba in più di esperienza in generale Il miglioramento per quanto riguarda le raids degli enchantment Quindi sarà più facile enchantare per loro E anche roba tinkerer Quindi in realtà comunque l'ultimo si potrebbe fare È un pensierino di chiedere agli elf di entrare da loro Per fare un test su come possa migliorare questa cosa dell'outpost Che l'ho in realtà Quindi vediamo un attimo assieme se riusciamo a fare questa cosa Poi torniamo negli alfa Volevo un po' parlarvi anche di una questione Che mi avete sollevato nei commenti Ovvero il fatto di non fare delle suicide kill Allora il problema ragazzi è che questo server è pvp Le suicide kill sono tanta roba Perché comunque vi aiutano in realtà A guadagnare un sacco di energia Facendo quasi nulla Perché in realtà bisogna tanto aspettare Di avere un bel po' di roba per fare le suicide Lo uccidi C'è qualcuno che recupera la roba sotto E quindi sei a posto Sinceramente è una cosa che vorrei fare Perché facendo così ragazzi Riesco a guadagnare comunque tanta roba Mi dispiace per chi giustamente ci muore Però funziona così il server Nel senso che tu devi cercare un posto Più o meno utile Che non ti porta a morire malamente Quindi cercherò in qualche maniera Comunque trovare qualcuno Che mi dà un po' una mano per fare queste cose E nelle prossime puntate ci saranno anche le suicide kill Ho raggiunto il massimo del cosmic energy Che ho sotto il piccone Quindi andiamo a farci un altro incianzo Proprio Portiamo al livello 25 appena possibile Penso di riuscire a farne ancora un altro anche oggi E poi i nostri soldi saranno utilizzati Per fare altre cose Vi faccio vedere nel frattempo che ho preso 3 godly E 2 leggendarie Devo ancora fare un sacco di cose Non preoccupatevi Allora andiamo subito a buttarcelo dentro ragazzi Vediamo un po' cosa riusciamo a trovare dentro Mettiamo il nostro zenith pickaxe ragazzi Vediamo un po' che abbiamo Efficienza 4 Mi servirebbe Manitism 2 79 Energy collector Shard discover Shutter Ok Allora direi Visto che non voglio comunque fare casino Nulla Andiamo a utilizzare queste 3 simple Giusto per dargli un vantaggio in più 1 2 3 Perfetto 86% Efficienza 4 A me serviva E ci siamo Beh Efficienza 4 fatto Ci siamo adesso Fare l'ultimo Efficienza 5 Siamo a posto Faccio vedere una cosa abbastanza carina C'era un tipo che stava vendendo Per un flare qualsiasi Quello tipo potenziato Quello che si compra comunque Normalmente dallo shop Un piccone E c'è Fede che l'ha recuperato Ve lo faccio anche vedere E tipo strapotente Perché è livello 60 E ha questa roba ragazzi Lucky 3 Fracture 5 Replenish 5 Orsul Juno Superbreaker 5 Shutter 4 Powerball 1 Energy collector 5 Insomma è un piccone di tutto rispetto Livello 60 sinceramente E io volevo prendermelo Perché non era niente male Quindi peccato Che ce l'abbia fatta in realtà Oddio peccato Cioè va bene che l'aveva presa Fede Non l'aveva presa qualcun altro Però lo volevo anch'io Perché effettivamente sarebbe stato Un buon guadagno Per tipo 5-6 euro 8 euro al massimo Che infine Con questo soldi veri È vero Piro è un livello 60 È tanta roba E nel mentre che ovviamente Facevo il secondo livello Che mi si chiama per il piccone Giustamente Raggiungo anche il 91 Che comunque era fattibile Perché mi aspettavo un po' di più In realtà come tipo NRC in generale Invece no È stato tipo facilissimo Arrivare al 91 Ora voglio vedere Quanto ci vuole dal 91 al 92 però Quindi passiamo subito A fare anche quest'altro livello In questa maniera piuttosto veloce E ci siamo 6.000 Che poi in realtà Questa parte l'ho fatta veloce Perché ho distrutto Quasi tutto il mio La mia cella Quindi giustamente L'ho fatta la roba Solo per quello Vediamo un attimo assieme Comunque nel frattempo Ci siamo Tadam È due volte tanto 4.200.000 Per il 92 Ok Mi sembra logico Sì sì Un altro livello L'ho fatto qui Vediamo un attimo assieme Cos'altro riusciamo a trovare Livello 23 del nostro piccone Ci ho messo un po' a farlo Però ci sta Abbiamo Fracture 3 76% Lucky 3 10% Poi che altro abbiamo Abbiamo Superbreaker 2 E quello mi servirebbe Shutter e Magnetism Abbiamo molte possibilità davanti a noi Abbiamo attualmente Nel nostro PV 1 Questa roba qui Che sono 13% Quindi 26% teoricamente Che è tanta roba Ho qui da parte Faccio anche vedere Che ho comprato nel PV 2 Anche Fracture 3 Quindi potrei anche metterlo questo Appena possibile Però a questo punto Visto che là ci mancano 25 24 Anzi quindi Ci manca così poco Io andrei a questo punto A piazzare Queste due qua E ci facciamo Fracture 3 Però anche Superbreaker Non lo so ragazzi Sinceramente Io direi Allora a questo punto Attiviamo uno Uno di questo Perfetto Ci facciamo Superbreaker 2 Se ci va A culo Ok Buonissimo E nella prossima Potenziamo Fracture 3 Direttamente Che tanto nel PV 2 Abbiamo questo Fracture 3 Che c'ha 37% Quindi un paio di Dust Ce la facciamo tranquillamente Perché comunque sto farmando Nel PV 1 Vi faccio anche vedere Questa roba qui Sono 8 Godly E 11 Legendary Quindi piano piano Comunque sto andando avanti E siamo messi bene Una cosa buona In realtà vi faccio anche vedere Questa cosa molto molto importante Stiamo comunque farmando Tranquillamente Anche nella Home Dia Che sarebbe questo posto Che vi conoscete già Non è male Perché in realtà È comunque abbastanza utile Per farmare Perché ci sono Un botto di posti con diamanti Oddio Non così tanti Però comunque ci sono E come potete vedere Ci sono anche tanti Diamond qua in mezzo Però non è così tanto Pericoloso Perché comunque Se riusciamo a resistere Un paio di colpi Tranquillamente Grazie agli Hitman Siamo a posto Quindi in realtà Qui vengono a scavare Sicuramente i Moon E i My Guys Mi sa che sono Tipo messi insieme Teoricamente Comunque qua si scava Abbastanza tranquillamente E ci siamo In ogni caso Voglio tornare per ora Allo spawn Perché ho finito Per ora di farmare Visto che comunque Vi faccio vedere Che siamo già A 22% Del livello 91 Però basta per il momento Perché se no Fariamamo troppissimo E quindi torniamo Un attimo in giro Perché dobbiamo andare Adesso a vedere Un po' le quest Perché non abbiamo mostrato Ancora le quest Di questa settimana Visto che ce ne sono Un paio decenti E altre un po' Meno sinceramente Allora vi faccio un attimo Vedere che nelle quest Abbiamo questa roba qui Abbiamo questa qui Che dice semplicemente Muori dalla caduta Potrebbe essere fattibile Però in realtà Non so se I coin me ne da Tipo prima o dopo Quindi dobbiamo anche Vedere questa cosa Abbiamo il gambler Che dice apri due shard Questi qua La faccio subito Che tanto non ci vuole nulla Abbiamo questo qua Che dice compra Dalla roba della hack Quindi lo faremo Probabilmente molto presto 3 da 10 oggetti A 10 player Questo lo faremo anche Kill player Vedremo E questo mi dice Sostanto usa Un enchantment orbs Quindi probabilmente Con il prossimo piccone O comunque il prossimo Lato di piccone Lo faremo sicuramente Il resto invece Dobbiamo farlo Pian piano Perché sono cose Un po' più lunghette Tipo che ne so Recupera un 100 100 shard Cosa del genere Questo ne da addirittura 8 Quindi questo Vuole farlo appena possibile Abbiamo da spendere 2,5 milioni Nello shop Potrebbe fare Perché abbiamo da comprare Un paio di cose Quindi ci sta Perché abbiamo 2 milioni E qualcosa Quindi è fattibile Come cosa E poi abbiamo da fare Questa cosa qua Che è impossibile Livella una success Quindi vedremo un pochetto Mentre E quanto riguarda Quale è fattibile Abbiamo questa qui Che dice ancora Di completare Tipo altri 200 mila Di energia Quindi è fattibile anche questo Addirittura 500 mila Di energia Tutto su un oggetto Questo è un po' più fattibile Diciamo verso fine settimana Perché prima volevo portare Il mio piccolo Evelo 25 Quindi credo di riuscire A farcela Per questa settimana Poi vedremo Se ce la facciamo Oppure no In ogni caso Sarà una cosa Che dobbiamo vedere Pian piano di fare Una cosa che però Sicuramente mi conviene Fare appena possibile E prendere questo Diamond pickaxe E andare alla ricerca Di un po' di roba Infatti vogliamo andare a trovare Un paio di piccoli cosi Così possiamo potenziarci Anche il nostro piccone Però non da questa parte Riusciamo comunque A guadagnare Giusto un pochino Di esperienze Portiamo al nostro piccone Questo qui standard Quello diciamo Utilizzabile Per andare in giro A un livello un po' più alto Tipo livello 4 o 5 Quindi vedi un attimo Di recuperare giusto Un po' di meteoriti Qua in giro E lo potenziamo Quindi accendiamo Anche questo ragazzi In questa maniera Vediamo un po' che cosa esce Abbiamo magnetism Abbiamo super breaker Efficienza va bene Ok fracture Ancora Abbiamo shard discover Or magnet Efficienza Dai su su non puoi fare Efficienza però Ok ci siamo Perfetto Quindi prima abbiamo fatto Questo lo portiamo Almeno efficienza A 2 o 3 Così siamo a posto E lo possiamo usare Molto più facilmente Per minare in giro Anzi visto che comunque Dobbiamo fare una missione Che dice apri 32 shard Apriamo le ultime due Che sono queste E facciamo un bel roll Così vediamo Magari riusciamo a entrare l'energia Ok abbiamo trovato 16k E roba abbastanza utile Perfetto Quindi con le 16k Le mettiamo qua sopra E ce ne servono ancora un paio Possiamo infatti Mettere due oggetti Ed enchantare Quindi utilizziamo un attimo Questa E facciamo direttamente così Possiamo enchantare due cose insieme In maniera piuttosto fattibile Quindi vediamo un attimo Adesso cos'è Allora il primo Oh ma dai Ma dai Lifesteal Mi metti Oh cristosato Che Lifesteal ragazzi Lo metto Cioè lo stavo cercando Lifesteal Mi esce sulla spada nuova Che non ho mai messo Seriamente Va bene Andiamo subito 13% 71 E volevo tentare Qualche altra cosa Vediamo un attimo Se riesco a trovare altri Un'altra Un'altra leggenda Sarebbe utile Sì Penso di sì Nell'h forse ce l'ho Vediamo un po' Legendary Legendary Quanto si vende 540 Ah a sto punto Ne prendo una godly Scusami E lo porto al massimo Cioè Tanto a sto punto Ok ne prendiamo Stanto una ragazzi Godly L'abbiamo pagata un po' È vero Ma fa nulla Mettiamo la godly ragazzi 100% Lifesteal 1 Sopra la nostra cosa E abbiamo preso 8 cosmic token Perché abbiamo messo Un enchant figo Va bene Adesso invece sul piccone Ci mettiamo No lucky non mi interessa A questo punto Andiamo con Efficienza 2 Perfetto E vediamo un po' Tutto a posto Mi sa che ci sta Ok 100% Vabbè Mi pare è ovvio Che andavo Lifesteal E efficienza 2 Perfetto Avete visto Che ho inchantato due cose Nella stessa maniera Quindi Lifesteal 1 ce l'abbiamo Pammel 3 ce l'abbiamo Demo Forgeat ce l'abbiamo Ora io ho Sia Lifesteal 2 Che Lifesteal 3 Quindi pian piano Portiamo la nostra spada Sia Lifesteal 2 Che Lifesteal 3 Buono per noi Quindi vi faccio subito Vedere che abbiamo Questa roba qui Abbiamo tipo 4 livelli Da fare E 4 livelli Con tutta la roba Che ci serve Infatti Anzi in realtà 5 livelli Quindi abbiamo 5 livelli Devante a noi Per la spada E 5 cose Che possiamo mettere Sicuramente Anche se devo migliorare In realtà Questo qua E anche questo qua Di Lifesteal Quindi pian piano Lo sistemeremo Non preoccupatevi In ogni caso Io per l'evento ragazzi Vi saluto Noi ci vediamo presto A un nuovissimo video D'altro è tutto Ciao ciao E alla prossima puntata Ciao ciao